Beh, guarda, secondo me Terry, questo 64esimo festival della canzone italiana, sono successe troppe cose, troppe inconvenienti, avrebbe quasi bisogno di una benedizione, tu che dici? No, io credo veramente che è successo di tutto, quindi noi abbiamo bisogno di una benedizione qua a Sanremo e chi meglio di... Dottor Felix! Eccolo qua! Dottor Felix! Dottor Felix? Mi devo genuflettere più? No, 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 non serve, diamoci del tu. Anche del tè di pomeriggio, passami questa battuta. Allora, dottor Felix, io so che al di là di tutto c'è un brano, un progetto molto importante, io per questo, per non fare errori, vorrei che attraverso l'amica Terry ce lo spiegasse in prima persona dalla sua viva voce. Esattamente. Sì, naturalmente si tratta di una frase che il nostro Papa Francesco ha inventato, utilizza quando prende il telefono e chiama il prossimo, i giovani o chiunque bisognoso, dice ciao, sono Papa Francesco, diamoci del tu. Noi da questa frase, da questa maniera di essere del Papa Francesco abbiamo pensato, naturalmente essendo DJs, cantanti, musicisti, queste cose qua, di metterla proprio in onda dappertutto, sposare questa sua maniera di essere, il suo messaggio, eccetera, eccetera. Abbiamo creato questo brano che si chiama Diamoci del tu, nel senso io e Federico Landese Volante, siamo qui a Sanremo per portare Papa Francesco a Sanremo. Sarebbe bellissimo anche portare Papa Francesco e questo è un progetto che comunque deve arrivare anche nel cuore, così come arriva tutto il pubblico anche attraverso queste telecamere, questo messaggio insieme anche a Papa Francesco. Sì, sì, sono d'accordo con te perché il Papa non deve solamente andare nei posti dove ci sono milioni e milioni di persone che lo aspettano, eccetera, ma come Papa Francesco ha dimostrato ultimamente, può anche andare dove ci sono due o tre persone, capito? L'importanza è che il suo immagine, il suo essere è presente in un posto che la gente poi lo acclama e poi si sta bene positivamente parlando, sì. Noi abbiamo saputo che qua a Sanremo Dottor Felix ha dato una benedizione comunque a tante persone perché girava con un'auto e quindi dava questo messaggio d'amore, è molto bello qua Sanremo. No, no, molto bello e soprattutto però vorrei anche, giusto per la cronaca, dire che il nostro Dottor Felix ha già fatto parte di trasmissioni televisive importanti, vogliamo ricordarne qualcuna per esempio? Sì, vabbè, tornando un po' di anni fa mi ricordo che facevo parte di Stasera Lino con Lino Banfi per non levare niente a nessuno, poi ho collaborato con Pippo Baudo, poi ho collaborato con Raffaella Carrà con Ritorno in Due e poi ultimamente con il grande mitico unico maestro che amerò per tutta la mia vita che si chiama Piero Chiambretti che è fantastico. Ve lo voglio salutare e voglio ancora ringraziare per tutto quello che ci ha fatto, non solamente a me ma a tutti quanti noi con Chiambretti Night. Grazie maestro. Questo è molto bello, poi detto da un Papa, Paolo, Piero ti puoi ritenere forte. Papa Nero, tanto che aspettavamo. Bene, allora noi salutiamo con l'amore tutti i nostri telespettatori di Sanremo, ringrazio Terry Flowers per averci portato questo personaggio e ringrazio ovviamente. Grazie a lei, grazie a lei, ciao. E mi raccomando, diamoci del tu. Del tu, del tu, ciao. Anuncio del tu, del tu, del tu, del tu, del tu. Diamoci del tu, del tu, del tu, del tu, del tu. E tu, e tu, al cardinale, e tu, e tu, e tu, al generale, e tu, e tu, e tu, al presidente, e tu, e tu, e tu, e tu, all'eccellente. Qui il sibi nome l'imposui, Francisco. Amato il resto! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.